Ecco qua. Grazie. Dove sono gli altri? Forse ancora presto. I tuoi commenti su Boyz Fox erano interessanti. Di solito non mi attraggono i thriller politici. Sì, penso che il parallelismo con l'inferno di Dante sia incredibile. No, no, no. Mi hai convinto. Lo sto leggendo. Oh, stupendo. Ciao. Ciao. Christian, lui è Jack Hyde. Sono il fidanzato. Io il capo. Che cosa prendi, Chris?